Io ero in linea d'aria a pochi metri dalla stazione, a poche centinaia di metri, quando senti appunto questa grande esplosione, questo grande vuoto d'aria. Una strage che colpisce non solo il cuore di una città ma il cuore di una nazione intera. Ogni 2 agosto alle 10.25 questa ferita comincia a sanguinare inesorabilmente. Chiedi che cos'è stato il 2 agosto della strage della stazione. Grazie a tutti.